Ehi ciao a tutti ragazzi bentornati a tutti in questo nuovo video oggi siamo con Morse saluta Ciao raga E oggi siamo qua per farci una bella partita su Fortnite andiamo subito in questo posto dove abbiamo pingato ragazzi E daia Oggi cercano di fare vittoria reale come sempre però Ci proviamo ci proviamo Però non ne ha soccorato Abbiamo dovuto interrompere un game per fare il video perchè 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 si ragazzi Più importante il video Per la del video del game normal Vai doveri tu prima Perchè sennò i fans i fans non hanno il video e dopo Vai tu vedi io vado Ragazzi io spero che il laghi di meno si veda bene e si veda meglio perchè Fornetta messa in posizione perchè ancora non lo sa Ringrazio il mio scritto che me l'ha fatto sapere Che ti fa vedere Ti fa laggare meno in teoria In teoria dovrebbe anche registrare meglio Non lo so Quello che hai detto poi io Vediamo Non c'è nessuno in questo po' Ah si c'è qualcuno C'è qualcuno da me C'è? Si c'è una pistolina C'è io ci provo Hai bisogno? Non lo so Ma forse è il bot che sta camminando da me Si è il bot Eh il bot è il bot Mannaccia a lui ragazzi Mi ne tene Eh risolta il bot E lo sparco come prima Ragazzi non mi dalle armi il bot Il bot non mi dalle armi devo ucciderlo Vabbè mi sembra che il bot non ti dalle armi perchè non sparlo Ah no no c'è veramente un personaggio C'è veramente un cattivo C'è veramente una mannaccia a lui Eh in effetti In effetti no Oh ma vieni qua Eh si ho bisogno in teoria Vieni 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 Perché non lo so se forse un opero per sicurezza e vieni Perché l'ho ucciso Non era da una volta Però c'è stato lo scelto Si Ho fatto un headshot Mi ha fatto 49 Ho fatto un po' di shield Allora te mori ora Anzi Lai Sera No sta venendo incontro No la vado a pushare Tanto io prendo anche il pompo che c'aveva Sta arrivando Hai da te Proprio E' qua Quattro Che io vorrei Oh e c'è una cesta qua Vado io bella mossa Fesco Come riuscire a sentare E' la mia idea che le prendo Possono essere sempre utili Le lanciate le strutture Esplode tutto Ah le granate Eh sì Una volta ho ucciso un sacco di persone Con le granate Vai a Al market qua No io andrei dal bot Perché non mi dalle armi Devo ucciderlo Mannaggia a lui Fa quello che vuoi Ragazzi come prima il bot Mentre non registravo Io avevo 600 d'oro Come ora Ho 600 d'oro Come ora E non mi dava le armi sto bastardo Quindi mannaggia a lui Mannaggia a lui vieni qua Devi morire Bastardo Crepa Femmi di friendly Tranquillo ragazzi Fammi di friendly Sto video A voi a voi Il canale che è più fiammi di friendly Ragazzi è quello di game star Quello di game star Lui si che fiammi di friendly Sto canale A se Game star con conterà Probabilmente Guarderà sto video Allora Succede Allora ragazzi Io metto Editerò Sto a parte del video E ci rivettiamo Quando c'è qualche gente Perché sennò È un po' noioso Allora rega Questo bot Mi sembra uno Che dà le armi Mannaggia a lui Mi via il collo se Sono mele No no Parola di sparare Sennò poi Annaggia a te fra D'un giorno Ecco Oh questo mele dare Mi provi da un'arma di merda Vabbè me la piglio Oh Oh Cos Ma perché Ah perché hai sfidato duello Ah sì veramente Vabbè easy 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 Lo uccido Oh mi ha colpito Eh no Oh managgia a te morse l'arma Che è tanto la capo Ma con mi piace Per un scolare normale Ma non c'è nessuna Mi ha trovato quei due scar Io direi da andare a pillo Ah no però per sé Boh Non so dove andare Vabbè vabbè Ci sta Ci sta Io sto spoglando il Colosseo Perché non l'ho mai visto Non lo so Non lo so Perché voi probabilmente Sì ma io non l'ho ancora Io non ho sparato Non so mannaggia a te Arrivo subito Mannaggia a te non me morire Vieni da me Vieni da me Non lo sfidare C'è il 2 Vieni da me Scappa Scappa Fuggi fuggi Mannaggia a morse Che lo dobbiamo aiutare Ah se Vieni qua Spaccato Spaccato il pavimento Andiamo giù Andiamo giù Andiamo giù Ah proprio Poi un ferro Di forza Di forza Col ferro Proprio Non devono venire Oddio Mi hanno preso La spravvista Sti qua Eh vabbè Mannaggia a loro Rega Non è che c'è morse minacciato Mannaggia a lui Dobbiamo proteggerlo Sennò lo inculono Eh sì Però ti vedo C'è una palla di sabbia Ho trovato un posto camperoso Un stacco Eh vabbè è vero Che mi posso vedere Però Se sono scemi No dai Siamo positivi Siamo positivi Like a sto video Grandissimo morso Ragazzi ha capito tutto Allora però Ho sentito spari Non so da dove Per me Però Ti ho capito da dove Io no Cioè secondo me Ti metti il ping Verso dove L'ho sentito Verso di là Non so C'è qualcuno No no Ok Porto Non vi erano Agni Hai preso danno Eh sì Un po' sì No 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 Allora già Danno la prima Ok Sono un po' Nappo Grande morso Secondo me lo prendo Io Oh no L'ho lasciato Sui cilidini Lo doro per te Allora penso I cilidini Perché le avevo lasciato Evo sul tetto Così possiamo avere Una visuale migliore Qua ci sono degli cilidini Lascia quelli Allora prendi Tu ce le hanno Solo libero Io sì Ci avevo le vende Ma ho già toccato C'è il medikit Ah ok Allora io prendo questa C'è un medikit E quattro cilidini C'è due medikit Quindi anche una portata Oh il cecchino Io lascio la mitraglietta Per il cecchino Fatti lo Fatti questo Scudora A meno di 10 C'è il scuro Anche sono po' sprecato Ah Morse hai qualche Colpo cecchino Che c'è un 13 Sì Ok comunque Ci sono due persone qua Si sono passi Sono qua sotto Sono qua sotto C'è uno qua No Andrano in memoria Morse aiutami 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 Sono in due Morse vieni da me subito Sono in un grave pericolo Mi sto curando Mi sto curando Ma sono scarsi Sono scarsi Se andiamo in due lì Li uccidiamo Solo che ero da sola Sicuro? Sì sono scarsi Cioè non mi prendevano quasi mai Quasi Sono stilostardi Mannaggia loro Oh c'è uno qua Uno qua sotto Morse Ucciso Ucciso No ce ne sono altri Ce ne sono altri due camperati Una a terra Grande Morse Bravo Chi lo prende? Ci mette troppo tempo A prendere un'arma Vabbè allora Io prendo queste E ti lascio queste Ok Ha detto altre? Stai attenti Morse Che questi Ho paura che sono forti Anche io ho paura Molto Però io Me ne ritengo Nell'altro palazzo A questi tempi Sì andiamo di qua Mannaggia oh Togli la scala Dove sono? Io c'ho mille di oro Quasi Ma dove sono questi qua? Non capisco Non lo so Non l'ho capito io Ma sono qua Sono qua da me Ah no Sei te Sei te Mi stanno sparando Sono sopra Sono sopra Sono sopra Sono sopra Mannaggia Morse Arrivo da te Arrivo da te E' un'immaginazione Probabilmente Perché c'è questa piramide Ragazzi Stanno facendo con altri And Perché sono rimasti Su probabilmente Però c'è qualcuno Attento Sì lo vedo Lo vedo 52 15 Ucciso 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 Morse Do più H Ti lo faccio Io ho fatto Sto facendo un medici Non mi devono interrompere Per favore Oh Il tato Il tato Dai 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 Morse Vieni qua giù da me C'è uno qua sotto No da dove What Ho preso fuoco Ma da come Morse Perfetto bravo Morse ti prego Ti prego Morse Credo in te Morse Grande Morse Sì Mamma mia ragazzi Vittorio Reale così In un video a caso Che non era previsto Non era previsto mai Sto video Allora voglio rifarne uno E Dette vabbè Perché non farlo Dopo un bel paio di tempo Dai ragazzi GG per Morse Oh fra Glacciata malissimo Ragazzi Qualche parte del finale La dovrò tagliare per forza Perché sennò dura Un botto Eccolo L'ombrello della vittoria reale L'equipaggio dai Bellissima partita Veritata Perché abbiamo giocato bene Sì sì Ero pure morto io Però vabbè Fa niente Era morto ma va bene Alla fine Sono riuscito A farlo Ragazzi Che dire Lasciate 25 like Anche 30 E noi ragazzi Ci rivediamo come sempre Di un prossimo video Lasciate Tantissimo like Se va bene E iscrivetevi al canale Se ancora l'avete fatto E commentate con hashtag Vittoria reale Anche hashtag Real fan dai ragazzi E bella rega Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao